bella vecchi travaglia, siamo tornati con un nuovo episodio del diarrea team e dopo quasi un mese dalla sua ultima apparizione è tornato con angulo in po' con lo sa non importa c'è angulo, c'è diarra, c'è diarra, c'è diarra, c'è diarra, c'è diarra, c'è diarra c'è kakawa, c'è lukaku e c'è anche ukaka questo è il nostro diarrea orroi se non c'è un cazzo ah ma tutti quanti, andiamo a cercare la nostra squadra guarda che ci avevamo sotto ooooh c'è la nazionale c'è la nazionale e comunque noi siamo in cerca della prima vittoria con il diarrea team perché dopo due partite con il nostro diarrea team cosa abbiamo fatto? due sconfitte strano però la seconda è un po' meno peggio della triva perché stiamo andando meglio ora guarda 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 domani c'è diarra cioè è solo diarra e trascostante guarda quanto vuoi accorre poco guardami come mandato, siamo in sottra meglio, era più veloce aspetta che sta a riparci ma non corrono a eh sì lo è sì lo sanno eh sì lo è sì guarda 10 10 guarda ecco olé gran spazzata fuori olé il primo gol è per lui si è fatto male che stanno a fare si è fatto pompino pompino al campo che diarrea ragazzi lo sanno si dispera non poteva fare nudo su sto pallone dai 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 o kakashuka parla per diarrea oh numero oh ancora diarrea guarda l'ho passato ultimo l'intesa ricardo ricardo poi ricardo poi ricardo ultimo per favore su pallaccio falla qua c'è c'è il tiro con cagare qua c'è il gran tiro con cagare vallese di guadalasone vallese quando avessi messo male se ne ha messo male ma non ti preoccupare il giro è tutto no ho tutto lo scritto non lo scrivo ma si può via il sbagliato di generale a punto il giro il giro romana gatti di ala buono o guarda che c'è il tiro da fuori con diarra che fanno fare non lo fa io ho scelma lo schema ma che cosa bello questo schema bello bello va bene va bene così tutti così li vogliamo di schiena bello è possibile e non cassa ma se ne è cagato ma Lukaku dai ma perché non ti ripeni olè olè rega sta partita si riprende vero? si dai mamma mia oddio 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 ma perché 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 allora fatto tutto bene quando la realizzazione 9 si 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 entrando no non ho la rega ma che cazzo è? così segnala non si non mai c'è impossibile segnano sta squadra un cacao aaa mi morì se ti dico mamma mia lo sono mamma mia uh tira mamma è il tiro di metà spero che devi a dalutavo kakawa cinci cinci no 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 ragazzo non ho regalizzo segnali possibili questo è il suo alice mamma 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 ingiusto proprio ingiusto proprio dai guarda la parte della super mamma mia come capo in merda tutto conto se insinni no no ha 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 c'è tutti i controlli si mettono questo si stira pure vabbè ma che ma che ma che so ste cose c'è incredibile oddio oddio c'è stava a credere ci riprovano col cross in mezzo non nessuno oddio oddio non 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 ma che 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 non gore chiusura anche se si è mangiato sei mangiato mind non ci rido mamma mia lo sano ma lui qua che se magna pure con te a tutti quanti a pippa che dice qui stiamo migliorando partita dopo partita quindi ragazzi questa è la prossima partita volete vedere un gerratim vincente perchè non me lo sento che nella prossima ci starà certo anche tu se volete vederlo lasciamo 3000 like a questo video e il gerratim tornerà più forte di prima e con un pochettino meno un po' più stitico anche ciao alla prossima Ciao